e ciao a tutti ragazzi sono il vostro amore epico 2018 e oggi siamo su un altro video deboluccio perché c'ho poca memoria quindi ragazzi non volevo fare un video prima però come si dice è speziante cioè che non mi ha fatto caricare niente cioè non mi ha fatto fare l'intro cioè nell'intro volevo dire la fine perciò facciamo alcune partite qui perché ragazzi come si dice come si vede qua allora ai due anzi raga ai tre stanchiamo raga perché la gang è morto molto raga raga aiuto molto raga tocca per ricominciare raga oggi c'ho il mal d'auto sto scherzando raga raga si è laggato quindi ora usciamo da questo lag perché mi sta facendo salire i nervi ora me lo disinstallo perché mi sta facendo uscire i nervi guardate raga ecco quando non funziona niente ci sarà qualche virus ragazzi dopo controllo quanto a 1 a 1 raga si è che non prende il netto che vuole giuro ma che ti no bello però lagga sempre quindi raga non giocherò per ora a bello forse dopo scusate raga così mi sto vedendo così ok così si anche che devo vedere la strada quindi se bruciassi in una città date vai controlliamo sempre i riflessi raga no già è passato un sacco vabbè raga ai cinque stacchiamo ok perché già ci metto sei a quando è fine tre io ci metto cinque dai anche qui lagga non so perché raga mi stanno laggando tutto vabbè qui è manomai che l'ho mai l'ha mai l'ho mai l'ho mai l'ha mai l'ho 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 mai l'ordine che si sentite tipo vento pose macchine perché sto camminando adesso strada di che non so di chi perché praticamente io a mia mamma me ne vado dove voglio faccio la me ne vado alla vendura cosa? a fa 13 dai vabbè raga ora metto un pochettino di orto qui carota mio amore io vivo alla macarra carota qua e qua aspetta e i 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 guarda che c'è noi in fine poi ci sono i quasi dei maglianchi raga i restanti due mi sono rimasti quindi ok che raga così io ero fatti una cosa dico ma è una gioia faccio il seppi che faccio il seppi che mossi soddisfici no ma aspetta raga mi si raga tutto è una madonna ok raga faccio i seppi che mossi soddisfici raga vediamo quant'è vabbè raga e io chiudo qui scusate se non ho potuto fare niente in questo video però non ho potuto fare niente quindi adesso la mia pagina instagram vabbè c'è allora ragazzi 10 iscritti faccio la live ok ciao